I dieci vincitori della settima edizione del concorso Creativamente senza alcol sono saliti questa mattina sul palco del Cinemateatro Alessandrino per ricevere il loro premio PC e iPad. Un assegno dell'importo di 250 euro è stato poi consegnato ai dirigenti scolastici delle rispettive scuole per l'acquisto di materiale didattico. Alla cerimonia di premiazione era presente una numerosa rappresentanza dei circa 2.300 alunni che quest'anno hanno partecipato al progetto di prevenzione all'abuso di alcol tra i giovani, promosso come sempre dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dai Lions Club della provincia in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Alessandria, Dipartimento di Patologia delle Dipendenze e l'Ufficio Scolastico Territoriale della città. Il concorso rivolto agli studenti della seconda classe delle scuole medie inferiori della provincia di Alessandria ha visto coinvolte 80 classi e 35 istituti di Alessandria, Acquiterme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza. Sono stati oltre 400 disegni realizzati dagli studenti al termine di un ciclo interattivo di due o tre ore di lezione per ogni singola classe, condotto da esperti con l'intervento di un professionista del settore, di norma uno psicologo. Sono molto soddisfatto della numerosa partecipazione di alunni che il concorso ha fatto registrare anche quest'anno, ha detto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Pierangelo Taverna, partner dell'iniziativa sin dalla prima edizione. Il tema trattato è molto delicato e importante per il futuro delle giovani generazioni che talvolta tendono a sottovalutare i rischi che l'abuso di alcol comporta per la loro salute. Mi auguro che questo proficua collaborazione stabilita tra il mondo della scuola, le istituzioni e i privati contribuisca a rendere gli studenti ancora più maturi e responsabili.